No, non credo, è chiaro che è un attaccante formidabile, fuori classe, quindi qualsiasi squadra dipende molto da questo tipo di giocatori che fa la differenza davanti, però non è solo i guardi indipendenti, è una squadra che è basata su gioco d'attacco e lui è il terminale offensivo più importante che abbiamo, quindi molte giocate riusciamo grazie a lui. Grazie.